Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Benvenuti su Destiny in questo nuovissimo video guida in cui voglio mostrarvi come poter completare la sfida di Atheon nel ride la volta di vetro naturalmente nella sua versione aggiornata all'anno 3 ed essenzialmente le meccaniche base di Atheon sono rimaste invariate e funzionerà quasi tutto come funzionava già nell'anno 1 e per poter completare questa challenge molto semplicemente ad ogni giro quando usciranno sequenzialmente i 6 oracoli ogni guardiano del proprio team dovrà distruggere esattamente un oracolo non importa quale l'importante è che tutti i 6 guardiani uccidano un oracolo e che ne uccidano soltanto uno quindi questa challenge non potrà essere completata in meno di 6 giocatori e qualora un guardiano dovesse morire prima di distruggere il suo oracolo tutto il resto del team dovrà automaticamente wipeare e nonostante possa spaventare il sentire ciò vi assicuro che la challenge non è affatto difficile da completare iniziando dunque inizia la boss fight 3 guardiani a destra 3 guardiani a sinistra il mio consiglio è quello di posizionarsi subito all'interno delle piastre perché seppur non sarà obbligatorio è un piccolo accorgimento molto molto comodo perché appenati un teletrasporterà 3 guardiani scelti casualmente gli altri 3 rimarranno all'interno di quelle piastre e anche con la bolla attorno cominceranno comunque a generare i portali tutto questo semplicemente allo scopo di ridurre i tempi a questo punto 3 guardiani saranno all'interno di un portale che sia marte o che sia venere gli altri 3 staranno fuori appena inizierà questa fase quelli fuori dovranno semplicemente uccidere le supplicanti ossia le arpie quelli all'interno uno prenderà l'egida e andrà ad uccidere o i tre hobgoblin o il minotauro seguito dai due goblin e gli altri due guardiani potranno eventualmente dargli una mano come vi dicevo prima per completare la sfida ogni guardiano dovrà uccidere esattamente un oracolo quindi anche quelli all'esterno dovranno entrare all'interno del portale però mi raccomando ma i guardiani dovranno essere tutti e sei contemporaneamente all'interno del portale altrimenti la boss fight automaticamente fallirà quindi bisognerà fare a turni per esperienze inoltre vi sconsiglio di mettervi d'accordo del tipo io prendo sempre il primo tu prendi sempre il secondo perché essendo casuali teltrasporti si rischia semplicemente di confondersi dunque il mio consiglio per le meccaniche da seguire è il seguente il guardiano con l'egida una volta uccisi tutti i nemici all'interno del portale si posizionerà vicino all'uscita e purificherà quelli che escono il suo oracolo quello che dovrà distruggere per comodità sarà sempre l'ultimo per il semplice motivo che si trova sempre a fianco al portale e potrà essere comodamente distrutto con un semplice attacco pesante come dovranno agire tutti gli altri guardiani i primi due che sono già all'interno del portale di solito distruggeranno i primi due oracoli uno a testa appena il portale invece si aprirà di quelli all'esterno che sono tre due entrano subito nel portale il terzo invece rimarrà all'esterno ad uccidere le supplicanti a questo punto di tutti i membri all'interno sia di quelli entrati dopo che di quelli spawnati lì ogni volta che si distrugge il proprio oracolo dirigersi verso l'uscita aspettare di essere purificati e uscire dal portale importantissimo però non affidatevi soltanto ai vostri occhi non dite ho visto di aver distrutto l'oracolo e me ne sono andato potrebbe capitare che in due stesse sparando allo stesso per sicurezza leggete in basso a sinistra quando viene scritto che voi avrete ucciso un oracolo allora potrete uscire a questo punto l'ultimo guardiano che si trova all'esterno appena vedrà dei guardiani uscire potrà entrare all'interno del portale e uccidere il suo oracolo a questo punto gli ultimi ad uscire dovrebbero essere il guardiano che ha ucciso il quinto oracolo e il portatore dell'egida quindi fuori dal portale tutti al centro e tutti come al solito a massacrare ation è fattibile ucciderlo in un giro solo con i simulatori dormienti la freccia del cacciatore e armi della luce nel caso però in cui un giro non vi dovesse bastare ripetete il tutto e il gioco sarà fatto la sfida è generalmente semplice da completare basteranno le semplici armi della volta stessa l'epilogo di ateon la visione di confluenza la sorte fatale o il tempostato anche nelle loro versioni leggendarie per poter abbattere velocemente gli oracoli e gli unici nemici alla fine si trovano all'esterno del portale e saranno le supplicanti che più che esplodere non faranno importantissimo però è il sapersi coordinare appena si apre il portale due si buttano dentro appena si distrugge il proprio oracolo si punta a uscire dal portale ma ciò che ho notato che più spesso fa fallire questa challenge è il non guardare chi ha distrutto un oracolo capita soprattutto quando un guardiano entra all'interno del portale di sparare al primo oracolo che trova e potrebbe succedere che lo ruba un proprio compagno ma non è assolutamente un problema molto semplicemente vedete di aver distrutto un oracolo smettete di sparare vedete che non appare il vostro nome uccidete un altro oracolo semplice semplice un po di coordinazione e vedrete che questa sfida si completerà molto semplicemente dunque ragazzi per quanto riguarda come completare la sfida di ateon nel raid la volta di vetro è tutto come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione spero il video se state vostro interesse e vostro gradimento vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi